buongiorno buongiorno a tutti ciao sono ammedo tabini di fly cycling team cd siamo qua la presentazione del giro e che partirà domani 8 maggio è un grande piacere insomma essere qua anche quest'anno dopo l'edizione del 2020 finalmente a maggio dopo che l'anno scorso è stato ottobre fly si occuperà appunto di avere questo team di parteciperà al giro e dove partiranno atleti o persone comunque in generale ciclisti e anche non realmente usuali pedalatori ma persone che pedalano insomma un po più raramente con diabete o patologie insomma che possono in questo modo noi cercheremo di dimostrare vogliamo anzi dimostrare che lo sport fa bene lo sport è salute e che con una corretta attività sportiva si può migliorare la salute in generale dei diabetici e delle persone comunque con qualsiasi tipo di patologie cardiovascolari eccetera eccetera un saluto e ci vediamo state connessi a presto a presto sorti allora allora Grazie a tutti.